Una neonata, una bimba dei due mesi, è morta ieri a Siculiana, in provincia di Agrigento. La bimba sarebbe morta per un rigurgito. La procura di Agrigento ha disposto il sequestro della Salma, che sarà sottoposta ad autopsia. Sul posto sono intervenuti, oltre ai medici, anche i carabinieri della stazione di Siculiana e quelli della compagnia di Agrigento. Purtroppo i sanitari non hanno potuto far nulla per soccorrere la piccina, che era già cadavere al loro arrivo.